Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico come potete vedere in questa breve puntata ricensirò rapidamente il navigatore satellitare Garmin Nuvi-40 è piccolo, portatile, completo, funziona benissimo è veramente un piccolo gioiellino eccezionale io l'ho comprato nel febbraio del 2013 su Amazon l'apparecchio funziona perfettamente non ho mai aggiornato le mappe perché per dove vado io mi bastano e mi avanzano, non è mai cambiato niente ha tantissime funzionalità sia quella che può essere anche staccata e utilizzata in ricarica come navigatore andando a giro chiaramente la batteria non ha una durata infinita ma comunque è più che sufficiente collegato alla macchina è eccezionale da tutti gli avvisi qualora si sia in prossimità di autovelox chiaramente gli autovelox quelli fissi perché quelli mobili non possono essere inseriti nella mappa per il resto è un simpatico compagno di viaggio che vi aiuta a trovare le strade e obiettivamente il segnale satellitare li prende a ruolo in galleria, nelle gallerie molto lunghe perde il segnale ma appena si esce dopo appena due o tre secondi riagguanta immediatamente la traccia satellitare quindi è un piccolo oggettino veramente, veramente veramente eccezionale compratelo se non ce l'avete perché è veramente ottimo i prodotti Garmin sono veramente ottimi un saluto, ciao ciao